Attimi di paura ieri a Sassari nei pressi di Sacro Cuore per l'incendio divampato in un appartamento. Vediamo il servizio di Valeria Ganadu. Fortunatamente le due persone coinvolte nell'incendio dell'appartamento in piazza Sacro Cuore a Sassari ieri pomeriggio stanno bene. Si trovano ancora ricoverate sotto osservazione, la Santissima Annunziata, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Ieri sera però si sono vissuti attimi di paura quando nel primo pomeriggio ha preso fuoco un materasso, probabilmente a causa di una sigaretta. Il fumo in poco tempo ha invaso l'appartamento e l'intera palazzina. L'allarma è scatato immediatamente e i vicini hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente evitando il peggio. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato le due persone al pronto soccorso, visibilmente provate da quanto appena accaduto. e hanno prestato anche soccorso ad alcuni condomini rimasti intossicati dal fumo. In piazza Sacro Cuore sono arrivati anche i carabinieri che hanno gestito l'ordine durante le operazioni di soccorso. Resta la finestra dell'appartamento anerita dal fumo, sul marciapiede pezzi di infissi piegati dal fuoco, ma rimane soprattutto la paura di uno scampato pericolo.